ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale oggi come di consueto andiamo a vedere le nuove novità apportate alla versione di marzo di home assistant lo vediamo un po prima del rilascio ufficiale quindi noi in questo momento lo vediamo sul canale beta quindi ragazzi bando alle ciance andiamo subito a vedere cosa è cambiato allora come potete vedere io ho già aggiornato appunto sul canale beta la mia versione una delle novità più importanti che è stata introdotta è sicuramente quella per finalmente poter gestire in autonomia tramite un menu dedicato il riavvio del sistema piuttosto che adesso vi faccio vedere anche altre opzioni è stato messo questo tastino che consente un riavvio rapido per di fatto ricaricare la configurazione iam senza di fatto riavviare riavviare invece proprio home assistant quindi interrompe anche tutti gli automazioni gli script in esecuzione e in più tramite le opzioni avanzate finalmente possiamo riavviare lost oppure addirittura arrestarlo cosa che anche prima si poteva fare ma era un bel po più complesso adesso hanno radunato il tutto in questa semplice veste grafica quindi ottimo lavoro direi ok passiamo alla seconda novità hanno introdotto anche se vi dico che in questa funzione beta non funziona molto hanno introdotto la possibilità tramite il controllo vocale oppure nel momento in cui vai a chiedere un qualcosa tramite tastiera ad assist di dirti per esempio quanti luci sono accesi in una stanza piuttosto che quante se ci sono luci accese in generale in una in una stanza piuttosto che la temperatura esterna oppure se chiuso una serratura o diciamo richieste di questo tipo cosa che prima invece assist faceva in modo base tipo accendi una luce spegni una luce diciamo riusciva a fare queste cose qua quindi questa è stata un'altra importante novità non vi faccio vedere come funziona semplicemente perché non lo prende adesso non so se perché magari ho la versione italiano in questo momento la beta e funziona solo in inglese comunque poi vi aggiornerò e vedremo se effettivamente la funzionalità andrà a funzionare totalmente una volta che ci sarà il rilascio definitivo quindi non in beta ok un'altra novità degna di nota è che hanno finalmente uniformato e semplificato le schede delle entità cioè adesso vengono viste in maniera molto più pulita come potete vedere abbiamo la gestione tramite le impostazioni ok quindi tramite la rotellina e hanno pulito un po tutto oltre ad avere introdotto anche per una serie di altri sensori e nello specifico per le luci per le switch e per l'entità di tipo sirena adesso andiamo a prendere ad esempio uno switch quindi non so una presa cerchiamo se magari riesco a scrivere ok una presa dalla cucina come vedete è cambiata proprio l'interfaccia quando vado ad aprire diciamo la mia entità qua torno a quella che era una volta diciamo la classica il classico pannello quindi le statistiche in primo piano posso andare nelle impostazioni impostazioni avanzate anche questo era possibile ovviamente già da prima però è stato uniformato un po il tutto e in più posso vedere delle informazioni sul dispositivo che mi riporta direttamente allo shelly piuttosto che se c'è qualcosa di correlato quindi diciamo ottimo lavoro anche qua è stato pulito un po il tutto altra novità importante che è stata aggiunta la precisione a livello decimali delle varie entità se noi andiamo adesso su ad esempio questa che mi conta l'energia che sta consumando come potete vedere posso decidere la precisione dell'entità cosa che prima non era assolutamente supportata quindi questo un altro cambiamento direi ottimo per aggiungere funzionalità dopodiché è stata rinnovata anche la creazione di una nuova automazione quindi di fatto l'interfaccia come potete vedere è cambiata e poi all'interno in realtà rimane uguale è stata semplicemente rinnovata all'apertura altra cosa che il team di home assistant sta facendo è sicuramente continuare il lavoro su matter e su thread e quindi sono in procinto di rilasciare una serie di novità ma in questa versione ci sarà poco poco in senso che sicuramente sarà migliorato il supporto appunto e sarà gestita anche la connessione a livello di matter proprio del bridge di matter ok quindi questa è una di quelle novità è stato poi introdotto supporto a python 3.11 e invece a livello di breaking change non segnalo grossi problemi grossi cambiamenti l'unica cosa da stare attenti lato mqtt che l'entità che adesso restituiscono un non piuttosto che valori di questo tipo saranno impostati in anknow quindi nel momento in cui noi abbiamo delle automazioni nord red o in generale anche in massi stanchi verificano questo tipo di stati attenzione a modificarle correttamente in modo che tutto possa funzionare con questo ragazzi io ho terminato spero che questo aggiornamento flash di appunto di o massi sta nuova versione di marzo di o massi stante vi sia interessato vi invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati perché faremo sempre questi aggiornamenti e introdurrò pian piano anche altri aggiornamenti flash su altri software quali ad esempio nod red zbm tutto come mqtt eccetera eccetera quindi vi invito a iscrivervi a lasciarci un bel like e se riuscite anche a supportarci magari con uno dei nostri abbonamenti io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata ciao ragazzi